Ben ritrovati, ciao a tutti ragazzi, siamo qui in un nuovo video. Oggi tra l'altro è la giornata in cui faremo pure una bella diretta nel pomeriggio per iniziare a preparare qualche contenuto su Kefran Turam, fatto bene, quelli di che portiamo ogni anno sui colpi di mercato della Juve, quindi non mancate perché oggi nel primo pomeriggio ci vediamo anche qui per due chiacchiere insieme, sarà anche una sorta di Q&A come facciamo settimanalmente. La scorsa settimana siamo mancati perché ero in ferie ma ora che sono tornato dobbiamo recuperare tutti i momenti che abbiamo perduto e quindi non avremo altro tempo da gettare via. Inizia un pochettino a delinearsi il tabellone degli ottavi di finale di Euro 2024 e questa cosa diventa interessante anche lato Juventus perché abbiamo già delle nazionali eliminate contenenti appunto di giocatori della vecchia signora. Stiamo parlando di Serbia e Polonia che da ieri sera sono ufficialmente fuori dalla competizione e quindi tornano a casa Milik, Szczesny, Vlaovic e Kostic. Quattro giocatori della Juve che non hanno più nulla a che vedere con questo torneino estivo. Allora, sono giocatori quasi completamente sul mercato e c'è stata un fatta per Vlaovic che non ha disputato un bel europeo, è stato un europeo difficile giocando anche una posizione non proprio degna delle sue qualità e delle sue caratteristiche quindi in appoggio a una punta sulla tre quarti, boh scelte un pochino così e poi abbiamo in realtà Milik che non aveva partecipato per via di questo problema al ginocchio rimediato nelle amichevoli prima dell'europeo Milik che sarà interessato da questo stop per ancora qualche settimana e Kostic che ha avuto appunto un infortunio durante la competizione. Ieri Szczesny non ha giocato, al suo posto Skorupski c'è un legame appunto affettivo dietro questa scelta perché la moglie è in dolce attesa quindi Szczesny ha avuto una sorta di permesso dalla nazionale ma sappiamo che Szczesny è anche un nome sul mercato per l'uscita della Juventus dato che Di Gregorio è tutto fatto e c'è questa sorta di gara per vedere chi sarà tra Di Gregorio ed Aglas Luiz il primo annuncio ufficiale della Juventus di Agomotta. Anzi facciamo questo giochino, secondo voi chi sarà io punto un euro su Douglas Luiz per un motivo solo e cioè domani dovrebbero esserci le visite mediche del giocatore, oggi quelle di Barrenecea, ieri quelle di Iling Junior e quindi si stanno incastrando un po' tutti i tassellini, penso che il primo annuncio sarà appunto quello del centrocampista brasiliano che in questo momento sta giocando la Copa America anche se la prima partita ha fatto zero minuti ma va bene così, guarda io sono più contento che non le giochi neanche uno così possa arrivare bello fresco e riposato per l'eventuale retiro estivo. Questa mattina mi sono sentito il video di Romeo Agresti, saluto, ciao Rome e sentivo che parlava di potenziali contropartite per Kefran Turam. Ieri avevo fatto il nome di Milik che viene confermato anche appunto oggi da Romeo aggiunge quello di Ken che so per certo piacere anche tanto in Italia ci sono diverse squadre come Fiorentina, Bologna, su tutte che vorrebbero portarsi a casa il giocatore c'era l'Atletico Madrid che l'aveva cercato a gennaio tant'è che Ken era andato a vedere una partita dell'Atletico per poi tornare indietro dopo le visite mediche non superate con successo e c'è qualcuno che parla anche di Arabia quindi Ken sembra un giocatore con del mercato, sembra un giocatore destinato ad uscire si fa il nome appunto di Kostic che ripeto in questo momento è infortunato ma è pure eliminato da Euro 2024 e si parla anche di Nonge proprio perché il Nista potrebbe avere la volontà di investire su un nuovo profilo giovane per cercare di andare un pochettino a colmare questa perdita di Turam eventualmente valorizzare Nonge e ripresentarsi nella possibilità di avere un giocatore da cedere a caro prezzo sul mercato ora, in realtà c'è un piccolo problemino e cioè che i soldi che probabilmente il Nista si aspettava di ricevere per Turam oggi non li puoi più prendere perché Turam è in scadenza 2025 e sappiamo bene che quando un giocatore va in scadenza 2025 diventa problematico riuscire ad incassare delle cifre molto più elevate rispetto a magari una ventina di milioni di euro forse anche poco meno se ci sarà l'aggiunta di un giocatore ancora meno quindi per la Juve questo diventa veramente un colpo da monitorare un colpo da seguire, un colpo interessante lo sappiamo e basti vedere McKennie cioè McKennie che rifiuta il rinnovo del contratto esattamente come Turam è che a scadenza tra un anno è un giocatore al quale la Juve non potrà incassare denaro o comunque difficilmente incasserà delle cifre elevate per Turam si parla di una ventina di milioni di euro per McKennie secondo me anche qualcosina di meno cioè io credo che sia necessario essere obiettivi anche sul valore del calciatore sul tipo di mercato che può avere il calciatore basti pensare a Chiesa che scade tra un anno e è un po' che vi dico che secondo me il prezzo di Chiesa non supererà i 25-30 milioni di euro e io me lo ricordo che qualcuno mi dice eh no, però almeno 40-50 se oggi alla Juve arrivano offerte di 50 milioni per Chiesa è da prendere, impacchettare e portare non per il valore del giocatore ma per la condizione contrattuale allora perché Chiesa può avere 40-50 cosa che per me non è vera perché oggi il prezzo di Chiesa secondo me è più intorno ai 25, massimo 30 e invece il prezzo di McKennie deve essere di 30 e quello di Turamo è meno di 20 cioè capite che non sono cose logiche bisogna cercare di seguire una linea guida bisogna cercare di essere coerenti con quello che è il ragionamento bisogna cercare di ragionare su questi binari qui e quindi sì, probabilmente il Nista non potrà incassare più di 20 milioni di euro cash con una contropartita saranno ancora decisamente meno su McKennie diventa ancora più problematico perché ci sono stati anche già dei problemi lato Aston Villa con il giocatore che ha delle richieste veramente da top player a un club di Premier League e con la Juventus che non voleva dare la buona uscita quindi io sul fronte McKennie sono un po' preoccupato Vecchi in questo momento anche lui è impegnato in altre competizioni però un po' preoccupato perché se il giocatore fa muro e giuntoli fa muro il rischio è veramente di trovarsi da separati in casa con il giocatore che a gennaio firma per un'altra squadra a parametro zero e sta fermo un anno perché oggi questa sembra essere la situazione di McKennie con la Juve a meno che lui non capisca che la situazione poi è così delicata è così difficile che è necessario fare un passo indietro dalle richieste verso la Juve o dalle richieste verso un altro club e si riesce comunque a fare l'accessione poi ragazzi attenzione perché la valutazione di un giocatore dentro uno scambio e la valutazione di un giocatore a cash sono due concetti completamente differenti questo bisogna metterselo bene in testa esempio se Turam lo inseriamo in una trattativa in cui diamo Milik Valutato 10 milioni più 12 milioni quindi 22 milioni di euro totali per Turam magari senza il calciatore Turam lo vai a pagare 17 18 ed ecco che l'inserà magicamente ha 4-5 milioni in più a bilancio per la trattativa di uno stesso giocatore che ha una valutazione differente a seconda di quello che è l'incastro lo abbiamo visto anche con lo stesso McKennie dentro lo scambio con Douglas Lewis era valutato sopra i 20 milioni sui 25 milioni di euro una roba del genere è ovvio che non mi aspetto che arrivi una squadra offrirmi 25 milioni di euro cash per McKennie perché un conto è se me lo inserisci una valutazione di uno scambio un conto è se devi tirare fuori del denaro quello è ovviamente oggettivamente una cosa differente e qui secondo me si apre un grande spiraglio perché da settimane che leggo sotto i commenti dei miei video dei miei post di tutto quello che scrivo gente che mi dice ma come Uizen può valere 30 e Calafiori non può valere 50 no attenzione anche qui bisogna fare un distinguo intanto la volontà del calciatore Calafiori sembra aver dato via libera alla sua gente che tra l'altro è un agente che vanta nella scuderia della Juventus Ken Nicolussi mi pare anche Kostic mi pare anche Perin insomma tanti giocatori che sono rappresentati dall'agente di Calafiori sono tutti o quasi giocatori in uscita ne avevamo già parlato qualche settimana fa e quindi la Juventus comunque con l'agente di Calafiori ci parlerà per ragioni esterne e proverà anche a incastrare questa roba qui ma un conto è la valutazione che fa il club un conto è la valutazione che può inserire nello scambio un conto è quello che speri di poter prendere perché se mi dite Luca Toselli tu perché cifra cederesti Uizen io ti dico 40 milioni però sono pienamente coerente con il pensiero e sono assolutamente convinto che sia una valutazione elevata a maggior ragione se è cash non può essere se mi dici nello scambio con Copmeiners può essere valutato 30 e quindi fai 30 più Uizen probabilmente sì perché è una valutazione in cui anche lo stesso Copmeiners è valutato 60 milioni che mi sembra una cifra a fuori mercato per un giocatore che ha già detto di voler andare via le valutate dei calciatori contano tanto i contratti le scadenze contrattuali contano tanto quindi queste cose sono fondamentali e ragionate sempre sul distinguo scambio quindi valutazione più elevata o pagamento in contanti può Calafiori essere valutato 50 milioni di euro cash? per me no per me non esiste può Calafiori essere valutato 50 milioni di euro in uno scambio in cui magari ti diamo Ken che viene valutato 15 milioni o 20 milioni e deve aggiungere 25 allora quello è un altro discorso che poi non so nemmeno se può essere mai una soluzione una strada un'ipotesi presa in considerazione però un conto è se ti devo dare così a mano ti devo fare un bonifico firmo un assegno che arriva a Bologna con scritto 50 un conto e se ci si accorda su determinati giocatori allora la tua valutazione è già pompata perché è una valutazione elevata se è interessato questo giocatore allora questo vale così in modo da arrivare a quella valutazione che stai richiedendo ragazzi questo è un discorso che abbiamo fatto mille volte l'anno scorso quando si è parlato più di extracampo che di campo ma è inutile prenderci in giro cioè io ancora ho della gente che viene a scrivere sotto i commenti eh vuoi le plusvalenze ma allora forse non abbiamo capito niente cioè ogni squadra nel mondo fa questo tipo di ragionamenti perché il cartellino di Cobb Mainers di Calafiori può essere valutato a 60 e 50 che sono valutazioni gonfiate all'interno di uno scambio ma la Juve le deve valutare a ribasso cioè non esiste anche la valutazione di 50 milioni di Douglas Lewis è una valutazione elevata perché è una valutazione elevata poi che la Juve debba cedere per arrivare a determinate cifre beh questo mi sembra un dato di fatto cioè giunto lì non è l'omino più ricco del Monopoli che va in giro a comprare Parco dei Principi e tutto quello che c'è in giro al massimo prezzo perché c'ha i soldi no la Juventus è una società che deve fare un mercato di qualità deve smaltire determinate situazioni contrattuali smaltire determinati giocatori che non sono congeniali al nuovo approccio nuovo metodo di lavoro dell'allenatore deve cercare di monetizzare questi profili e deve cercare di migliorare la squadra con dei giocatori che sono più coerenti con l'idea di calcio di Tiago Motta questa è la missione le valutazioni nel calcio ragazzi adesso a me va bene a me piace a me diverte sono onesto mi diverte perché è la parte ludica del calcio quando arriviamo qui è divertente però le valutazioni non servono a niente cioè le valutazioni non esistono non possono esistere perché devi tenere in considerazione troppe cose la cartella clinica calafiori ha fatto anche mi pare un crociato o forse un crociato e mezzo nelle giovanili della Roma cartella clinica la tiene in considerazione anche se è clinicamente guarito però significa che ha subito un infortunio di un certo tipo superatissimo situazione contrattuale volontà del calciatore prospettive della squadra cioè Calafiori che può giocare a Champions gol Bologna è meraviglioso però probabilmente ha più voglia di giocare ancora con Tiago Motta che è l'allenatore che l'ha fatto crescere all'interno della squadra come la Juve che comunque la Champions la gioca e forse può dirla su anche per lo scudetto e che giocherà pure il mondiale per il club cioè è ovvio che queste cose vanno tenute in considerazione me le dai tutti i cash o mi inserisci una contropartita che magari mi interessa le valutazioni non servono a niente è coerente è giusta la domanda perché se può valere 30 e Calafiori 50 no sì però c'è anche da 30 a 50 è quasi il doppio se poi vogliamo anche dirla tutta per un giocatore che è anche più giovane vedete quante cose ci sono dentro all'analisi che ti porta a una valutazione economica troppe troppe quindi è bello è divertente sì fantastico Calafiori 150 milioni però capite bene da voi che non può esistere un tipo di valutazione che vada bene per tutto ci sono troppe cose troppe variabili da prendere in considerazione questi sono alcuni ragionamenti che volevo portare sul piatto oltre a quello che si sta leggendo nell'ultime ore ho letto prima dal bianconero che il Newcastle sarebbe interessato Federico Gatti offerta di 25-30 milioni anche qui tutta cash agli lo porto in galoppa lo carico andiamo perché Gatti è considerato un giocatore non titolare nell'evento di Stiagomotta io ho anche dei dubbi su quello che potrebbe essere l'impiego di Gatti in una difesa 4 in un retroguardia 4 perché lo vedo forse più esterno destro che difensore centrale se si riesce a monetizzare su un profilo che è stato preso a 7 milioni è stato fatto giocare è diventato un titolare poi riesce a cedere sul mercato per me è un'ottima cosa vedete questi sono i ragionamenti che deve fare la Juve compro McKennie a 20 milioni bene ho la possibilità di farlo crescere bla 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 poi non so come finirà la storia di McKennie però sulla carta è stato un colpo giusto a un prezzo buono non basso non elevato buono che se lees non retrocede in Premier League cedi a 35 milioni che se McKennie non fa i capricci inserisce una trattativa per Douglas Lewis questi sono i colpi Gatti lo prendi a 7 bene dopo due anni lo vendi a 20 poi questi sono prezzi da Premier League in Italia nessuno verrebbe a bussare la porta della Juve a suonare il campanello della Juve e dire 30 milioni Gatti cash ma non esiste ma non esiste e lo sappiamo tutti per questo vi dico le valutazioni ecco un'altra cosa che aggiungiamo da chi arriva all'offerta arriva in Italia o arriva fuori Italia se arriva in Italia è un conto se arriva fuori Italia è un altro quanti soldi ha da spendere la squadra Newcastle che è una squadra che sta cercando di fare un determinato tipo di mercato di investimenti eccetera eccetera o una squadra che deve stare dentro al palito del fair play finanziario entro il 30 giugno come la Stoneville e che quindi ha necessità di cedere uno dei pezzi pregiati cioè non ha senso fare le valutazioni non ha senso poi sono intanto soggettive perché sono soggettive e poi c'è l'oggettività di quello che viene messo a bilancio ma anche lì ci sarà sempre da discutere sempre da contestare perché per me un giocatore come Gatti per 20 milioni può andar via magari per te per 25 magari per te per 30 anch'io cederei usene a 40 sarei offerta la 30 cosa fai non lo cedi dici no me lo tengo anche ben sapendo che 30 milioni cash cavolo sono una bella cifra che è un po' il ragionamento che fa la Juve su Sule lo valuto 40 se mi dai 40 cash lo cedo se no me lo tengo vedete se mi dai uno scambio di un giocatore da 40 come era stato proposto Douglas Lewis dato che Sule lo volevano e vi ho detto no perché vuole soldi per Sule che è diverso da arriviamo comunque a valutare magari il Bologna vuole soldi per Calafiori e se la richiesta è 50 milioni di euro cash secondo me Calafiori è l'anno prossimo vestire la maglia del Bologna ma non perché non sia forte non perché non li valga li può valere se all'interno dello scambio anche i miei giocatori sono valutati a rialzo però no semplicemente questo e tanto altro lo andremo a discutere anche nella live di oggi pomeriggio ciao a tutti ragazzi